La ragazza della palude, o meglio, in originale definito When the Crowder End, che è appunto tratto dal romanzo americano bestseller, thriller, e che appunto era uscito, vabbè, in America un po' di tempo fa, da un'Italia solamente oggi. Io l'ho recuperato, appunto, e allora, sono partito con zero aspettative, prima di tutto, era proprio quel classico film del quale non sai quello che sta a vedere, l'ho visto anche abbastanza a scatola chiusa, l'ho visto di sfuggita qualche trailer, ma nulla che potesse aiutarmi a intuire la trama. E allora, non lo so, sono andato proprio non sapendo che aspettarmi, magari anche non aspettandomi nulla, e devo dire che tutto sommato sono rimasto soddisfatto rispetto a lui, Ends è assolutamente una visione consigliata, è un filmetto, perché secondo me ha dei problemi, soprattutto di durata, però funziona. Di che cosa parla in grandi linee, non farò troppi spoiler, di questa ragazza che è stata abbandonata dai genitori, che ha vissuto tutta la sua vita su un fiume, che lei chiama appunto questa palude qui, e allora lei si innamora, vive questa storia d'amore, però un giorno il suo ragazzo viene trovato morto nella palude, e lei ovviamente viene incolpata, ma nulla è come sembra. Magari non è questa la verità, io non vi dirò quale è la verità, non vi farò spoiler, perché non avendo letto il libro non lo sapevo neanche io, quindi non vi farò spoiler, tranquilli, non vi preoccupate. Vi dico che è un film che mi ha convinto per tre quarti, poteva essere su serie un gran bel film, risulta un film che comunque rivedrei, ma che ha degli argomenti interessanti, come probabilmente crede il libro. Ha uno stile molto romanzato, infatti si sente molto che è tratto da un libro, talvolta fin troppo, infatti l'essere romanzato secondo me è il suo maggior problema, secondo me è quello, il punto che inganna la pellicola. Proprio perché risulta talvolta eccessivamente prolisso su certi punti, rendendoli estremamente lunghi e quindi dando al pellicola in sé una durata che non la rispecchia, con tante scene vuote sul serio. Ci sono delle belle frasi molto impattanti, con una critica sociale anche molto interessante a quel tipo di popolazione lì, comunque in generale molto all'America. Il fatto che le persone un po' più deboli, più isolate, vengono vedate subito come assassini o negativi, che lo siano o no, comunque. E' interessante l'idea del processo e mi è piaciuto come abbiano voluto gestire il film, che si aggira tra flashback, flashforward, realtà, presente. E se è una tecnica che talvolta anch'io dico che secondo me è fastidiosa, eccessiva, magari può dare fastidio, qui secondo me risulta assolutamente efficace. Risulta una idea che riesce appunto a tranquillamente puntare in grande, riesce a dare questa sensazione di distopia, del non sapere quello che sia accaduto, quello che accadrà, quello che stia accadendo. E del fidarti, ma non riuscire neanche a fidarti solamente di quello che ti viene detto e ti viene mostrato. A favore di questo mio parere positivo abbiamo un'estetica davvero niente male. Regia, fotografia, tutto molto molto interessante, specialmente la fotografia che in certi punti è dei picchi. E soprattutto abbiamo lei, la protagonista che si sta emergendo molto, anche in Fresh, uscito quest'anno, che per me è stata bravissima. E quindi sono curioso di rivederla. Tutto sommato, niente di che, per me se non avesse messo questo essere manzato eccessivamente sarebbe stato un gran film, o comunque un bel film. Due stelle e mezzo su cinque. Mediocre, ma memorabile sotto certi punti. Se fosse stato aggiustato meglio, probabilmente starei facendo la ola. Grazie. Grazie.